assistenti vocali domotica piattaforme streaming in grado di proporci film e serie in base ai nostri gusti l'intelligenza artificiale fa sempre più parte della nostra vita programmare macchine istruire computer in modo che possano replicare alcune caratteristiche umane è la nuova frontiera della scienza grazie al programma intelligenza artificiale e scienza dei dati imparerai le tecniche di base del machine learning apprenderai i linguaggi di programmazione più diffusi come python e ar approfondirai la scienza dei dati come raccoglierli ed elaborarli per estrapolare informazioni utili a creare valore un programma completo articolato in quattro percorsi di difficoltà crescente grazie al quale acquisirai competenze approfondite e specifiche sulle tematiche trattate se vuoi diventare un esperto di intelligenza artificiale cosa aspetti iscriviti ora gratuitamente su federica punto è